Grazie signora Fedeci e grazie alla simpatia. Grazie a tutti. Poi Parigi si vedrà che è una bellissima persona, sarà un'ottima imprescindola al vecchio palacaliera che soffrono, che oggi era stato realizzato nel 1960, quindi se farlo diventare una New York, l'highlight di Milano, cioè fare una grande passeggiata e fare invece Milano.